Questo quadro, e ho detto, bello questo quadro, mi piace molto, si intitola Le peonie e la farfalla. L'ho guardato e ho detto, dunque, le peonie e la farfalla, ma se voglio imitare una storia, non è che posso partire così e basta. La farfalla ha una storia? Cos'è prima di essere farfalla? Un bruto. E tra l'altro è farfalla? È bozzolo. È bufa, crisalide. E allora dico, scrivo una storia in cui inizio da prima di questa farfalla, da chi era questa farfalla. E allora sarà stato un bruchetto.